Queste elezioni europee rappresentano un momento importante. L'Europa può andare avanti o tornare indietro, ma certamente non sarà l'Europa di oggi. Il quadro che si andrà a formare a Bruxelles sarà un quadro che inciderà profondamente sulla vita di ogni cittadino dell'Unione Europea. Per questo è importante andare a votare. Io temo, come tutti gli operatori e gli osservatori, che ci sia un momento di disaffezione e che si pensi che il proprio voto sia inutile. In realtà non lo è. È fondamentale andare a votare l'8 e il 9 giugno. Ovviamente io invito a votare il Movimento 5 Stelle, ma capisco perfettamente che ci deve essere la libertà di poter scegliere qualsiasi forza politica e dare la preferenza a chi si ritiene più opportuno mandare a Bruxelles. Ma l'importante è andare alle urne. Bastano 15 minuti, non serve tanto tempo. Si indicherà il simbolo della forza politica a cui si vuole dare il proprio sostegno e al massimo tre preferenze. Facciamolo tutti, perché le elezioni europee hanno un'importanza enorme sul destino dei Paesi membri e dei cittadini dell'Unione.